214esima edizione della sagra polentara di san costanzo la più antica sagra delle marche 21 22 23 luglio il programma delle tre giornate partiamo il 21 luglio con piazza san pio quindi sul castello in mar sul castello dove non distribuiamo polenta ma faremo una cena a base di pesce quindi con intrattenimento con pizzica salentina musica dj animazioni per i più piccoli per poi qui ci tengo a sottolineare che per ogni cena devo diamo un euro per la lega del filo d'oro poi ripartiamo il sabato 22 con il taglio del nastro insieme alla nostra regginetta insieme all'amministrazione comunale e da lì dalle ore 18 poi apertura degli stand con polenta e non solo quindi ricco programma con mercatino artigianale ci sarà anche a damo onlus di fano la musica con joselito dj presso piazza san pio e al teatrino parrocchiale il sabato alle ore 23 il sanco disco questa festa organizzata dalla nostra pro loco giovani che sono ansiosi di iniziare questo nuovo questo nuovo viaggio la domenica abbiamo il sempre quindi riaprono gli stand alle ore 18 animazione musica con mirko e simona abbiamo distribuiamo la polenta per chi non può venire nostri anziani che non si possono muovere da casa gliela portiamo a casa previa prenotazione e chi può venire gli facciamo il servizio al tavolo tutto questo grazie a tutti i nostri volontari grandi e piccoli le magliette gialle parcheggio bus navetta gratuita parcheggio per i camperisti e musica quindi anche dal vivo e vi aspettiamo e ringraziando tutti i nostri sponsor l'amministrazione comunale la regione marche la provincia di pesaro l'umpli di pesaro urbino in caso di maltempo ahimè la faremo il 29 30 speriamo di no